con tre film è diventato un mito brandon lee italia 1 dedica una sera la leggenda di brandon lee con due film alle 20 e 30 resa dei conti a little tokyo e alle 22 e 30 una prima visione assoluta laser mission domani sera a partire dalle 20 e 30 su italia 1 la leggenda di brandon lee